Come vedete siamo nella platea del teatro di Magnago e alle mie spalle che cosa c'è? C'è un allestimento, l'allestimento di Scusa sono riunione ti posso richiamare, quindi questa bellissima scenografia che nasconde dei segreti che però purtroppo non posso spoilerarvi dovete venire a teatro per vedere come si trasformerà questa scenografia, intanto sul palco ci sono gli attori che ripetono le battute, risistemano un po' i dialoghi in modo che tutto sia esattamente perfetto per raccontare questa storia di cinque amici dell'università, ex compagni dell'università che si ritrovano inaspettatamente vittime inconsapevoli di un reality show. Allora noi siamo qui in Friuli, quanto ci piace questa terra? Bellissima, bellissima per tanti aspetti, si beve bene, si mangia bene, è bella, le montagne sono stupende, siamo arrivati qui con le montagne innevate, con le due momenti innevate bellissime e c'è un grande calore da parte della gente, del pubblico, non soltanto in teatro, una delle regioni più adatte da dove iniziare dal nord Italia, dal Friuli, una terra comunque di gente, si direbbe nella lingua di Vanessa, caliente direbbe Vanessa incontrata, perché gente calda, gente accogliente. Quindi riuscire a trovare un equilibrio, vero? Tra il viaggiare, lo stare bene, fare il nostro lavoro, vedere le persone la voglia, lo dicevamo ieri, ma soprattutto il pubblico che finalmente torna. Ci stiamo divertendo, questo lo si tradisce. E poi siccome noi abbiamo avuto due anni di fermo, ovviamente stiamo rodando un po' tutto, perché oltre a provarla, sapere la memoria, eccetera, bisogna rodare con un certo tipo di ritmo e quindi, ed è proprio un posto bello per poterlo fare, un contesto giusto. Quindi, vero o no? Quindi veniteci a trovare, siamo in diverse piazze del Friuli, ci vediamo presto, prestissimo e grazie. Ci vediamo a teatro. Si ride, ci si emoziona, si ride a crepapelle, ci si diverte per un'ora e cinquanta e soprattutto si recupera la voglia di condividere le emozioni live dal vivo a teatro e quindi si ha anche la voglia di ritornarci. Quindi, che dire, scusa su una riunione, ti posso richiamare, sta girando in Friuli con grande felicità da parte nostra, con un allestimento veramente da Champions, come dico io, non mancate e continuate a seguire queste e tutti gli altri spettacoli del circuito. Noi vi aspettiamo. Io intanto vado a dare qualche indicazione di regia. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!